Questo è un elmo di tipo corinzio adottato dai romani tramite gli etruschi ed è un elmo di origine greca è un elmo molto coprente che però dava scarsa visibilità e scarso udito molto spesso era decorato con una cresta di diversi colori quest'altro invece è un elmo cosiddetto frigio di origine macedone anche questo adottato dai romani tramite gli etruschi ed era particolare perché aveva questo ricciolo sulla cima dell'elmo e le paragnatidi a forma di volto umano